Oggi siamo venuti a Piazza Venezia, una delle piazze più conosciute di Roma, per mostrarvi un monumento tra i più recenti a Roma, nonostante poi la gente pensi che sia molto antico. In realtà è un monumento del Novecento che è stato completato nel 1935 ma è stato inaugurato nel 1911 e l'architetto, nonché il progettista Sacconi, manco l'ha visto terminato perché è morto prima. Ed è il Vittoriano, un monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, chiamato anche Altare della Patria perché all'interno c'è la cripta con le spoglie del famoso milite ignoto. E oggi ve lo voglio mostrare un attimino perché uno è gratuito, due è facilmente raggiungibile e tre è una passeggiata, non si nega mai, anche perché all'interno ci sono degli ulteriori musei, anche essi gratuiti, compresi di servizi. E l'unica cosa a pagamento è la terrazza, che è quella là sopra, che vi permette di vedere tutta Roma. Prodotti Foodspring che vi danno energia, eccoli qua, l'Endurance Drink da utilizzare durante l'allenamento, l'Energy Aminos che può essere anche in confezione singola, da portare in palestra e usare subito. Foodspring è sponsor di Scuola di Botte. Bisogna dire che ci sono diversi orari per le diverse attrazioni all'interno, per esempio la terrazza panoramica, come ho detto, è un'attrazione a parte, si paga a parte. Museo Centrale di Risorgimento, il Museo Nazionale di Palazzo Venezia perché poi da una parte c'è uno, da una parte c'è l'altro e poi la normale fruizione del monumento. La prima cosa da sapere è che se venite qua vi dovrete fare le scale. Certo, potete usare l'ascensore, specie se siete persone con problemi di disabilità o motori, però dovete poi entrare di lato e arrivate già avviati. Invece la parte più bella è proprio farsi la grande scalinata che vi permette di ammirare comunque la grandezza del monumento, in particolare il fatto che ci sia molta disciplina dentro questo monumento perché si evita di andare in alcuni punti, il percorso è abbastanza guidato e poi con il fatto che i turisti sono molto indisciplinati certe volte c'è un controllo all'inizio, c'è un controllo a metà, c'è un controllo sopra perché a gente se no se mette seduta, bivacca, magna, scureggia, se scaccola ed è finito. Infatti una delle prime cose che vedete è, è vietato, scritto a caratteri cubitali, c'è scritto non fare danni, non superare le barriere, non sedersi sulle gratinate, non consumare cibi, bevande e introdurre animali che potrebbero magari defegare o fare altre cose, non fumare e non cettare carti e rifiuti, sembra tutto abbastanza normale però meglio scriverlo. E la prima cosa che incontriamo superata la prima rampa è proprio la celebrazione del milite gnoto. Il milite gnoto praticamente è un corpo martoriato che fu ritrovato dopo la prima guerra mondiale e che poi è stato utilizzato come simbolo per tutti i soldati caduti in guerra irriconoscibili, pertanto non si conosce l'identità del milite gnoto, rappresenta tutti quei soldati che non hanno un'identità e che sono caduti durante qualsiasi guerra. Il milite gnoto tra l'altro è presidiato H24, ci sono sempre dei soldati, si alternano, prima ci sono i gruppi dell'aeronautica, poi quelli dell'esercito, poi ci sono quelli della marina, ci sono tutti i corpi militari, offrono questo servizio di onoranza proprio al milite e controllano sia che nessuno profani l'area, sia che non si spengono le fiamme perché queste fiamme che stanno qui sopra, anche queste sono accese H24, non si devono mai spengere ed è la famosa luce perpetua, quella che vediamo qua. Quando ero ragazzino io era una particolarità che non si poteva entrare, dovevi guardarlo da sotto, da dove c'è quella barriera lì giù in fondo e vedevi sopra i militari che erano fermi praticamente, qualunque fosse la condizione atmosferica, qualunque fosse la temperatura, qualunque fosse la situazione e non si potevano muovere, infatti la particolarità è che sono immobili, proprio ad onorare il milite ignoto che viene qui rappresentato. E infatti la domanda dei ragazzini è sempre la stessa, papà ma come fanno, se devono andare al bagno, se si devono grattà, se gli scappa magari uno starnuto eccetera. Ovvio che ci sono delle necessità corporali che a un certo punto non puoi controllare, però nel 99% dei casi si sale preparati e si scende magari al limite di qualcosa che te scappa. Interessante anche vedere il cambio della guardia e il cambio del corpo, nel senso che prima c'è il cambio della guardia, diciamo dello stesso corpo, perciò l'aeronautica cambia semplicemente i suoi soldati di volta in volta. Poi quando cambia il corpo, venendo un altro ente, venendo un altro corpo militare, cambia tutto completamente, cambiano le divise eccetera. I soldati che stanno qui, i vari militari, usano sempre la divisa di rappresentanza, cioè quella più bella, non quella operativa, cioè non stanno con la mimetica, ma vedete stanno magari con la mantella, col cappello quello specifico più bello, che permette di dare anche un pochettino più di immagine. Questo è uno dei pochi monumenti a Roma dove il turista, che di solito è indisciplinato, che è abituato al disastro, al degrado, all'assismo, anche di monumenti importanti come il Colosseo, vede disciplina, organizzazione, pulizia e evita di fare le porcate, evita di fare scritte, evita di buttare la roba, evita di sporcare, evita di mangiare il paninazzo e buttarlo per terra. Perciò da questo punto di vista, secondo me, è molto interessante lo schema che si è adottato proprio qui sull'altare della patria. La cosa più importante da vedere è lassù, ed è la statua di Vittorio Emanuele II a cavallo, che poi è quella che rappresenta il Vittoriano, se non si chiamava Vittoriano. Tanti mi diranno che è stato per tanto tempo anche il simbolo del fascismo. In realtà non è nato per il fascismo, l'ha adottato il fascismo come simbolo, utilizzando anche quel balcone lì per fare i discorsi. Mussolini, quando faceva i suoi discorsi, si affacciava a quel balcone. Questo era comunque una piazza molto grande, dove era possibile utilizzare anche il corridoio dei fori imperiali, perciò c'era un accesso molto importante, ma per costruirlo dai tempi del progetto fino alla realizzazione, voi non sapete quanta roba hanno dovuto far fuori in quest'area. Partiamo dalle cose più importanti. Qui sotto ci sono le insule dell'Araceli, cioè sono le vecchie abitazioni dell'antica Roma dove vivevano i romani e erano stratificate, erano forse le prime abitazioni a più piani, dove chi stava sopra era più ricco, chi stava sotto era più povero, quello sopra magari gli buttava la roba. E le possiamo vedere proprio qua. Vedete, sono proprio sotto il Vittoriano. Sono state per fortuna preservate una parte, mentre la maggior parte sono andate perdute. Tantissime cose sono andate perdute durante la costruzione di questo monumento, perché hanno trovato capitelli, hanno trovato templi, grotte, di tutto e di più. Il progetto era in piedi, hanno preso, qualcosa l'hanno salvata, qualcosa l'hanno buttata e alla fine abbiamo questo monumento recente e tante cose della vera antichità sono andate perse. Se ci affacciamo in questo momento stanno facendo anche dei lavori qui sotto ed è particolare perché raramente si mettono a lavorare su cose così delicate, ma era talmente rovinata la parte relativa ai marmi, alla camminata intorno al palazzo che sono dovuti intervenire per forza. Di sicuro una cosa che io farei, visto il tipo di monumento, è lavorare su lo sbiancamento di alcuni scalini, di alcune aree che purtroppo soggetti al tempo, soggetti all'inquinamento, alla fine questi si sporcano. Il Vittoriano è stato anche soprannominato da alcuni la macchina da scrivere perché è stato molto odiato negli anni, sia per il discorso che tante case e tanti palazzi sono stati espropriati, buttati giù per costruirlo, sia perché tante ricchezze antiche e storiche sono andate perse, nel tempo questo ha creato molto dissapore tra i veri romani e anche perché molti continuano ad associarlo poi al fascismo perché sicuramente l'epoca più buia è stata quella, poi quando è decaduto il fascismo questo l'hanno preso e l'hanno chiuso, l'hanno lasciato marcire tra virgolette, fino ai primi anni del 2000 questo era un posto tenuto malissimo, poi fu proprio Carlo Azzeglio Ciampi che dopo un bel restauro lo fece riaprire di nuovo al pubblico e lo inaugurò e secondo me è stata una bella idea perché comunque avere un monumento che era solo fino alle celebrazioni, perciò c'erano quelle due o tre celebrazioni l'anno che venivano fatte qui, francamente non aveva un gran senso, invece aprirsi al pubblico, lasciarlo visitabile e fu così che indipendentemente poi dal fatto che era stato abbandonato tornò a vivere e le persone iniziano a frequentarlo anche per una semplice passeggiata. Man mano che si fanno le varie rampe, al di là che la prima scalinata è quella più imponente perché è larghissima, anche una delle più larghe visibili, salendo sopra si arriva praticamente all'altare delle città redente che sono proprio alle spalle della statua equestre Vittorio Emanuele. Cosa sono le città redente? Sono quelle città che a un certo punto facevano parte di altre nazioni eccetera che a un certo punto sono ritornate all'Italia, se non ricordo male sono 12 e ognuna di esse è rappresentata da un piccolo altare che si trovano proprio qui in alto dietro questo colonnato. Le due figure importanti sono le due vittorie alate sulle quadriche che si trovano a destra e a sinistra sulla parte più alta del monumento e permettono a distanza di capire dove si trova il monumento, perciò dove si trova Piazza Venezia. I riferimenti a Roma sono spesso le varie cupole, le più alte tra cui San Pietro, il Vittoriano che rappresenta comunque l'accesso al vero centro perché qui davanti a me c'è proprio via del corso che se percorsa tutta permette di arrivare fino a Piazza del Popolo, nonché Piazza Leflaminio e poi si va verso anche il Lungotevere e tutta la parte esterna. Saliamo e andiamo verso il Sommo Portico che è composto da 16 colonne in stile corinzio e poi sopra ogni colonna se guardate c'è una statua diversa che è la rappresentazione delle diverse regioni italiane. Adesso qui non si vedono bene, continuiamo a salire, scalinate che ho detto ce ne sono tantissime, però è anche bello vedere tutta la parte strutturale, stato di Vittorio Emanuele II con la base sotto. Considerate anche una porticina, probabilmente c'è un locale tecnico o qualcosa perché la sera c'ha di bello che tutta la parte del Vittoriano è illuminata molto molto bene, infatti se guardiamo in giro è pieno di faretti, luci eccetera e la sera chi viene da Via del Corso, chi viene a Piazza Venezia e chi passa qua sotto vede proprio questo monumento illuminato e che diventa anche pure riferimento serale e notturno per le persone che passano per Roma. E qua da sotto il quadriportico poi c'è la Piazza del Bollettino. Perché si chiama così? Perché praticamente il generale Armando Diaz fece un bollettino col quale decretava la fine della Prima Guerra Mondiale nonché la Vittoria. Qui è stato praticamente inciso sul marmo e viene ricordato proprio per questo motivo. Qua sotto ci sono quelle che vi dicevo le famose città redente, Fiume, Pola, Trieste, tutte quelle che erano praticamente annesse a nazioni diverse che poi pian piano sono state riportate in Italia. Più saliamo ovviamente è migliore la visuale perché già da qui si gode un'ottima visuale, si vedono anche gli scavi, si vedono tutte le zone archeologiche che ci sono sotto, i faretti che la sera illuminano il monumento. Alcuni sono un po' datati perché c'è un po' di ruggine, sono un po' rovinati e via dicendo, però comunque merita. Quello che noi vediamo qui sono le vetrate perché poi all'interno ci sono ben due musei, perciò da qui spesso entra la luce, da tutti questi lucernai in vetro e cemento, proprio per alimentare musei. Adesso noi proviamo anche a entrare dentro. Qui usciamo dalla parte laterale, c'è la possibilità di acquistare un biglietto che permette di accedere al museo interno. A Palazzo Venezia le terrazze tutto in un unico biglietto, che non è neanche costoso, francamente lo consiglio, se avete tempo ovviamente di visitare tutti e tre i siti che sono disponibili con lo stesso biglietto. Altrimenti continuate, vi fate una passeggiata laterale e uscendo da questa parte c'è di interessante che guardate i fori imperiali, fino ad arrivare a guardare il Colosseo, sempre che qualche gabbiano non vi becchi mentre state a guardare, che è un classico. Se noi adesso ci affacciamo da questa parte vediamo proprio lì giù in fondo il Colosseo, ma anche qui sotto ci so tutta la parte dei fori imperiali fino a giù ed è anche carino vedere tutta la parte che c'è giù in fondo, che c'è qui dietro, perciò si arriva a vedere tutta la parte del rione Monti, addirittura fino alla giù vedete le montagne, è un bel panorama gratuito. Se continuiamo lungo la passeggiata troviamo anche un punto di ristoro che sta qui all'interno ed è questa è stata un'altra idea, secondo me intelligente, quella di mettere un punto di ristoro dentro un monumento che a un certo punto dopo che ti sei fatto la scalinata e ti sei rotto pure le scatole e fatto tutto quanto ti puoi prendere una cosa da bere, puoi usufruire dei servizi e tra l'altro la cosa più carina è che hanno messo le sedute belle a vista sul panorama, perciò non sei costretto per forza a stare dentro o al bancone. Tra l'altro lì sotto scendendo quella scalinata c'è uno dei carceri più antichi del mondo che è il famoso carcere di Mamertino. Il carcere di Mamertino che sta lì e secondo me andrebbe visitato anche se è molto molto piccolo è particolare perché è del VII secolo a.C. dal punto di vista di carceri ancora funzionanti è probabilmente il più antico del mondo e ha avuto tantissimi prigionieri illustri, ultimi ovviamente San Pietro e Paolo, i due apostoli ma molto prima ce n'erano tantissimi illustri tra cui Vercingetorige, Regno Siculo, Gaio Sempronio Cracco veramente una lista particolare che secondo me merita. Una delle cose particolari è questa struttura di ascensori per la salita e la discesa dal monumento, dalla terrazza in particolare che non c'era prima, come vedete è stata costruita esterna ed è stata fatta anche bene perché è bella sia da vedere non impatta tantissimo con il monumento perché poi questo monumento in realtà confina con altre strutture qui accanto ci sono una chiesa molto importante, qui ci sono i vari istituti, per esempio qui c'è l'Istituto per la Storia e Risorgimento Italiano l'unica cosa che veramente mi ha colpito in negativo sono i cavi in giro allora io capisco che non era possibile fare delle tracce perché che ti metti a fare tracce su un monumento, su una struttura però i cavi così sono brutti per davvero sicuramente non potendo fare le tracce potevi fare una cosa del genere tutta una serie di canaline di plastica ben poggiate magari con un filino di colla proprio per non rovinare le cose e qui c'è proprio l'accesso all'ascensore chi non c'ha il biglietto non può assalire ormai il biglietto è automatizzato, si può pagare direttamente qui in automatico paghi col banco, matta carta di credito eccetera c'è anche la biglietteria che nel caso non riusciste a fare tutto con la macchietta automatizzata potete prenderlo qua e in questo corridoio si vede benissimo la contrapposizione tra una vecchia chiesa che è attaccata praticamente al monumento e il monumento che è sicuramente molto più recente e anche la differenza poi di manutenzione perché poi questa parte è della chiesa cattolica e questa ovviamente è dello Stato italiano e delle belle arti hanno due tempi e modi diversi tra l'altro qui c'è una zona transennata che probabilmente ha avuto qualche problema strutturale però sempre il suo discorso transennarla così con questi nastri non è mai bello specie in un'area del genere sono separate le due aree cioè vedete qui c'è la chiesa della Racelli la lunga scalinata che sta qui sotto separati da questo cancello siamo praticamente sempre all'interno del monumento qui ci affacciamo dall'altra parte questa parte che dà sul teatro di Marcello lì a sinistra il Campidoglio tutto da questa parte e lì giù in fondo si continua per il centro il teatro di Marcello visto da qui probabilmente adesso contro luce non si vede bene è anche soprannominato il falso Colosseo moltissimi turisti che vengono qua si sbagliano e vedendo ovviamente quella struttura pensano che è il Colosseo non c'entra niente stanno all'opposto di una stessa zona e praticamente è tutta un'altra cosa ci si può entrare è visitabile e la cosa interessante è che sopra quelle strutture ci sono anche degli uffici e delle abitazioni adesso non so se ci siano ancora le abitazioni però gli uffici sicuramente ci stanno adesso finendo questo giro laterale rientriamo qui nel Vittoriano parte interna dove c'è qualche servizio e poi l'uscita che ci permette uscire lateralmente da qui tra l'altro si vede giù in fondo la parte di Montemario ed è la parte più alta di Roma dove c'è anche l'osservatorio astronomico di Montemario nonché alcuni ripetitori sarebbe da visitare anzi se vi interessa scrivetemi Montemario nei commenti che vi ci porto perché oltre ad avere una bella vista su Roma oltre ad esserci un locale storico a essere chiuso che è lo Zodiaco c'è tutta la parte dell'osservatorio e sotto ci sono anche i bunker di Montemario che venivano utilizzati durante la guerra adesso passiamo all'interno ed è anche bello da vedere la struttura com'è all'interno perché non è solo esterno come monumento ma anche all'interno sono stati curati di tantissime particolari poi la pavimentazione è una delle cose secondo me più belle ma anche se ci affacciamo qui oltre alle statue e tutta la parte rappresentativa dei soffitti eccetera possiamo notare pure i portoni, le finestre cioè tutto un dettaglio, uno sfarzo molto particolare ovvio che pure qua il tempo pian piano riporta sempre qualche danno, qualche crepa, un po' di sporcizia però devo dire la verità essendo un monumento recente funziona veramente molto bene per esempio lì un po' di umidità è visibile specie sulle parti quelle a contatto con l'esterno il fatto che vengono offerti i bagni qui non è una cosa da poco specie per i turisti mentre scendiamo al di là poi degli affreschi che si trovano ci sono riprodotte tantissime colonne bello a vedere questo portone che tra l'altro è mantenuto anche bene quest'area secondo me è quella tenuta meglio basta guardare anche il restauro che viene fatto in maniera continua anche sul discorso sia del legno che di tutta la parte affrescata è curioso che molti turisti pensano che queste siano opere antiche allora vedi che si mettono qua e fanno queste fotografie ah guarda che opera poi in realtà è tutta roba recentissima esci poi da qua, fai tu passi e c'è roba che c'ha migliaia di anni in più ovvio non tenuta così perché le colonne che trovi qui fuori non stanno nelle stesse condizioni le statue che trovi in giro non stanno nelle stesse condizioni però sono due cose diverse ci sono aree interne cioè mantengono quello che poi c'era sotto al vittoriano la parte strutturale questa delle mura, gli archetti che già c'erano pregresse e qui è ancora possibile vederle questa credo sia proprio la parte strutturale che è stata riutilizzata quando poi è stato costruito il vittoriano uno dei problemi che è stato proprio riscontrato durante la costruzione del vittoriano pensavano che sotto non era così vuoto come hanno scoperto invece hanno trovato tantissime parti vuote tantissime parti di sabbia che hanno reso più difficile poi l'inaugurazione proprio del monumento infatti per quello ci sono voluti tantissimi anni fino a che poi chiamiamola l'inaugurazione finale è avvenuta praticamente a morte avvenuta sia del progettista ma di tanta gente che ci aveva lavorato e qui c'è proprio la statua di Giuseppe Sacconi che è colui che l'ha progettato e colui che ne ha curato una parte alla realizzazione poi lui mi sembra nel 1905 è morto ed è continuata poi per mano di altri direttori dei lavori ma seguendo poi il progetto originale e da questa parte qui usciamo proprio sulla parte laterale del vittoriano e usciamo sulla strada dove possiamo notare alcune cose molto importanti due opere che impreziosiscono il monumento frontali sono le due fontane dedicati ai mari Tirreno e Adriatico che possiamo vedere sulla destra e sulla sinistra l'unico problema di queste fontane è che col tempo un pochettino hanno perso un po' di smalto specie dal punto di vista dei marmi perché poi l'usura dell'acqua eccetera creano sempre problemi però restano sicuramente molto belle specie perché poi a nesso c'è sempre un po' di verde e dall'altra parte abbiamo proprio l'altra fontana questa è la cancellata in ferro battuto ed è molto particolare perché è un pezzo unico fatto di ferro battuto con tantissimi dettagli raramente questa viene messa tutta giù perché questo è un sistema che sparisce completamente all'interno era stata progettata molto bene però solo in occasione di eventi molto importanti perciò due o tre date l'anno questa viene completamente abbassata per le cariche che vengono qui a rendere omaggio per queste ricorrenze qui vediamo lo storico Palazzo Venezia col famoso balcone dell'affaccio perché strategicamente aveva scelto quel balcone come vi spiegavo perché oltre ad avere tutta la piazza avevi tutta questa parte qui fino giù in fondo al Colosseo che ti permetteva di avere l'afflusso di pubblico perciò non è detto che riusci a via sulla piazza ma magari te fermavi lì, te fermavi lì e te fermavi laggiù questa è l'altra fontana che però per il momento è spenta ogni tanto si può trovare intorno a questo monumento dei resti lì c'è la parte del rione Monti che è molto interessante se vi interessa un video anche sul rione Monti che poi era la famosa vecchia Subburra dove c'era la vera criminalità ai tempi già dell'antica Roma possiamo fare un video e scrivete Subburra che poi dà nome alla serie Subburra nonché al film che si rifà alla criminalità di Roma nei tempi moderni vi faccio vedere invece la parte dell'abitazione dell'Aracelli che sono ancora visibili e questa è la parte che vi dicevo relativa alle abitazioni dell'Aracelli che stavano proprio sotto la basilica dell'Aracelli che sono state per fortuna preservate perché nel momento in cui hanno costruito se vedete a un certo punto si sono fermate e le hanno mantenute sono ancora visibili sono interessanti perché hanno un valore storico realmente importante e sono molto sottovalutate considerate che se adesso ce la facciamo qua sotto è pieno di sporcizia questa cosa è gravissima lattine, bottiglie, carte sosserie buttate e nessuno viene qua a fare manutenzione ci sono tantissime bottiglie di plastica buste, sporco, ombrelli, mascherine resti del pranzo e stiamo parlando invece di un'opera importantissima guardate per esempio lì c'è un affresco che ancora si mantiene e che neanche è protetto da una teca cioè sinceramente quest'aria qui andrebbe valorizzata molto ma molto di più non bastano dei semplicissimi divisori di plexiglass come in questo caso andrebbe ripulito, risistemato l'unica, vedete, l'unica cosa che c'è qua è la descrizione dell'insula dell'Araceli che è questa due o tre foto vecchie una roba così scritto poi piccolino cioè se uno fa pure fatica a leggere già qua è tutto ingiallito e rovinato francamente sta cosa non vale nemmeno la pena tenerla è brutta proprio da vederla siamo a parlare di roba del primo secolo dopo Cristo cioè sono duemila anni di roba che ci abbiamo qui alle spalle e che teniamo in questo modo che poi fa anche una certa impressione vedere lo stacco che c'è col monumento del vittoriano che sta dietro e questa è la prova che a Roma avendo talmente tanto materiale storico talmente tanti monumenti eccetera neanche li valorizziamo e la gente oltre che passa qua e non ci fa caso li usa come pattumiera passa qua e dico ma che è sta roba? una pattumiera boom butto ma questi c'hanno duemila anni? eh una pattumiera più e butto arrivate qui giustamente e sta casa romana se vuoi organizzare una visita c'è se ha il cartello ma mettete le fisse le visite quale cartello? ma che stiamo a parlare ragazzi? valorizzate lo suo patrimonio perché ce l'abbiamo e qua se vi interessa c'è una delle scalinate della Roma Centro più interessante più ripide e con il maggior numero di scalini che è proprio quella e la Araceli perché molti turisti la fanno sia per andare a vedere ovviamente la chiesa ma anche solo per farla e sedersi in cima perché veramente merita lo consiglio anche per chi si allena se vi fate una corsetta in centro a Roma la domenica vi fate i fori imperiali quando sono chiusi arrivate qua vi fate tutta la scalinate fate anche un lavoro importante e storico qui con le scalinate alle spalle quella del Campidoglio quella è la Araceli qui in mezzo una volta c'era la lupa ci potrebbe essere un video che tratta leggende e storie delle strutture romane dei palazzi romani dove ci sono aneddoti e tutta una serie di cose se vi può interessare questo video scrivete leggende nei commenti e vi riporto alcune aneddoti alcune leggende che ci sono relative ad alcuni palazzi alcune strutture di Roma che ci siamo tramandati negli anni e che è sempre bello ricordare così che poi lo realizziamo io per il resto adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao